Gli anziani molisse sono le vittime più esposte a fenomeni criminali. I reati contro le persone più deboli e indifese sono saliti dell'8%. Le pene detentive sono invece insufficienti. Pene detentive più consistenti, chiede il sindacato di polizia penitenziaria per gli autori di reati contro le persone anziane più adeguati servizi di sicurezza con le forze dell'ordine che devono essere chiamate ad intervenire nelle aree urbane più difficili e a maggiore presenza di pensionati. Da qualche tempo infatti le persone sole avanti negli anni sono le vittime preferite di raddruncoli e malviventi. Il numero di furti e rapine a loro carico è cresciuto in Molise dell'8%, mentre l'impennata dei reati informatici ha raggiunto in regione l'11%. In Italia però le pene a carico degli aggressori, in caso di fermo, non prevedono il carcere per pene non superiori a tre anni, quindi molto spesso ladri e furfanti restano sempre a piede libero dopo solo pochi giorni di cella. Solo di recente, rimarca il sindacato degli agenti penitenziari, il Parlamento italiano discute l'inalzamento delle pene previste per il reato di truffa nei confronti degli anziani. Il quadro nazionale si connota pure per la scarsa frequenza di processi per truffa, risultando spesso complessa e impossibile nella fase istruttoria. Ultimo elemento da non sottovalutare in regione è anche il numero dei reati non sempre denunciati dai pensionati per il senso di vergogna che si prova dopo aver subito un furto, senso che impedisce alle vittime di parlarne con parenti e conoscenti.